Domenica 1 dicembre arriva a Teramo presso il Parco della Scienza l'artista e fumettista Zero Calcare, evento organizzato dal Wide Open Coworking, c'è anche appunto la presenza, insomma il patrocino del Comune di Teramo e dell'Università di Teramo. Sì, è un evento che ci rende orgogliosi, un evento pubblico e gratuito che lo stesso Zero Calcare ha voluto promuovere. La collaborazione dell'Università e del Comune sono stati fondamentali affinché l'evento potesse raggiungere il suo scopo. Lo scopo è appunto quello di parlare con un professionista, in questo caso che possiamo definire eccezionale, e raccontarci un po' quelle che sono le skill e i segreti che ha da comunicarci. Tra l'altro questo rientra anche nei vari appuntamenti che avete organizzato come co-working, ovvero la segna, diciamo, la sezione dedicata al cosiddetto vivere freelance, quindi per dare appunto anche delle indicazioni ai ragazzi freelance di oggi. Sì, dal momento in cui la nostra community è composta soprattutto da freelance che operano nel campo della comunicazione e della creatività in generale, abbiamo deciso di creare questo format che è molto interessante in realtà per una crescita personale della community e anche ovviamente per tutti quelli che non sono membri della community ma che possono partecipare in maniera assolutamente gratuita e libera. Siamo particolarmente importanti, abbiamo condiviso l'iniziativa con tutti i partner di questo progetto, abbiamo coinvolto i nostri studenti, tutti gli studenti della Facoltà di Scienza e della Comunicazione. Crediamo che in un momento come questo sia molto importante risottolineare quei valori, quegli attributi, quei principi di cui l'artista si fa carico nel momento in cui esprime con il proprio talento le proprie opere. Credo che sia davvero importante che la mia facoltà sia presente a un'iniziativa e a un progetto del genere. Assessore, l'incontro con il fumettista, l'autore Zero Calcare, che dà prestigio alla città di Terra. Sì, assolutamente sì, siamo assolutamente contenti, abbiamo fortemente voluto la presenza di Zero Calcare qui a Teramo, dopo le polemiche che vi erano state di recente sulla sua venuta in Abruzzo come amministrazione, ci siamo mossi sin da subito per avere la sua presenza, averla all'interno del Natale Teramano. Zero Calcare sarà presente il primo dicembre a Teramo, è un ospite di livello nazionale ed internazionale, candidato al premio strega, non ha bisogno di presentazioni, sarà sicuramente un incontro di estremo interesse per la nostra città e in quella stessa settimana, quando il 4 verrà Sandro Veronesi per il premio Teramo, anche la presenza di Zero Calcare ci dà la dimensione di un Natale fortemente caratterizzato dagli eventi culturali.